La circolazione stradale è ripresa, ma molti agricoltori tardano a rientrare alle loro fattorie. L'atmosfera è quella di una protesta sindacale sospesa in attesa degli eventi, ma che potrebbe riprendere rapidamente. Alinka Bossel, giovane allevatrice di bovini vicino a Lione, che insieme al fratello e a un amico ha rilevato l'azienda dei genitori, spiega a Euronews le ragioni della protesta. Giusto per dare qualche cifra sulla produzione di latte, diciamo che il costo medio di produzione del latte è di 325 euro per mille litri. Noi vendiamo il nostro latte all'industria a circa 300 euro i mille litri, quindi 30 centesimi al litro, ma voi lo comprate al supermercato a 56 centesimi al litro. Dove va la differenza? Oltre a dover lavorare in perdita, gli agricoltori denunciano condizioni di mercato che favoriscono la concorrenza straniera a basso costo. Gli agricoltori hanno deciso di togliere i blocchi stradali, domani venerdì ci sarà una riunione della filiera sui prezzi e hanno deciso di ricominciare la protesta se l'esito della riunione non sarà soddisfacente. Euronews, Laurence Aleksandrovich.